Siamo delle palline rimbalzanti, te l'avevo detto che facciamo! Oh mio Dio! Quest'oggi passeremo alla storia perché diventeremo delle palline rimbalzanti Se lo dici così Stef non sembra una bella cosa Beh, io vorrei essere una pallina rimbalzante Allora, voglio partire in questo video dicendo una cosa In questo momento ho il tasto dello space staccato dalla tastiera Perché ho spaccato la tastiera nella scrivania dal nervoso Perché questo video l'abbiamo registrato 15 volte Sì, forse anche di più Allora, fate che commentato l'abbiamo fatto tipo 8 volte Gli altri 7 volte eravamo semplicemente zitti giocando nella speranza di trovare appunto i bouncer Perché con quello faremo appunto le palline rimbalzanti Però niente, continuiamo, siamo tutto il giorno qui che ci proviamo Prima o poi ce la faremo Stef, hai spiegato della tua tastiera ma non hai spiegato E infatti adesso stai col piano Cerchiamo 6 bouncer, ovvero 6 butta fuori i cosi che fanno rimbalzare Creiamo una piccola casettina completamente chiusa Mettiamo quelle 6 piattaforme in quella casettina completamente chiusa E iniziamo a rimbalzare all'infinito in tutti quei bouncer Il piano è molto bello Sì Ok, allora, io non ho più il tasto del jump, te lo dico Come fai? Cosa? Come fai? Ah, credo di aver rotto anche qualcos'altro Ma attaccalo! Eh, no, ma penso di aver rotto altro Ma no, Stef, non l'hai rotto, si è staccato Si riattaccano i tassi Sì, ma ho spaccato dove si riattacca Ok Eh, vabbè Riesci a usarlo almeno? Sì, sì Non posso saltare però Ti ricordo di quando avevamo fatto la live della no jump challenge Ecco No, devi saltare però, Stef, arrangati Lo so Cioè ridale un pugno e rimetti la porta Funziona sempre così Se si rompono si ridano altro pugno, dai Ah, vabbè Quindi 6 bouncer Se li troviamo possiamo fare una struttura Diventare palline rimbalzanti che rimbalzano all'infinito E finalmente avere un senso nella nostra vita Ok, ma non è la tua stessa casa Mi spacco anche la faccia Esattamente, quindi Non è che fado andare molto in giro Vado sotto È difficilissimo premere spazio Concentrati, Stef Quanta gente c'è? Eh, boh, mi è sembrata tantina Eh, mo' non so quanti di precisi Però almeno due team mi sembra di sì Ok Quindi c'è da killare Esatto In questo momento non sono molto abile Mettiamola così Allora Ok Hai trovato un fucile? Sì, un M16 Perfetto Bianco, però va bene Quindi non mi lamento Ok 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 Non c'è nulla di utile Sento la cesta Ma l'hai fatta a sta casa o sei andata da un'altra parte? No, ma io sono nella casa moderna Ah, quindi posso fare tutta io questa Ok Pensavo fossi in questa casa Di riparare la mia stessa Dai, Stef Concentrati però, eh E io mi sto anche Puoi fare schifo, sinceramente Sporchissimo Perché non te la pulisci da 40 anni Cioè, si puliscono le tastiere Vabbè, raga Ho praticamente un tastino minuscolo da premere È bellissimo È una nuova challenge Ok Challenge nella challenge Beh, praticamente l'hanno già È un inception di challenge questo, Stef Ok Eccoti qua Allora, ciao Non fuci la pompa Di fronte a noi due Però adesso sta abbastanza bene Shield, purtroppo L'altro solo vita Gli hanno tolta parecchia Bravissima Copriti Faccio io Ok Eh, non ho molti materiali Che intenzioni hanno? Non lo so Quanti colpi hai? Eh, pochini Faccio cadere, pronta? Sì Uno giù L'altro è nel distributore, ovviamente Occhio, Stef Che ti sbuca all'improvviso Arrivo Sta ballando Ah, ok E vabbè, pure lancia rasi C'è vero? E non l'ho usato Eh, no Ti lascio il pump verde Lo vuoi? Eh, buono Vabbè, te l'ho lasciato Ho preso il tattico Ho preso il tattico Dai, non voglio di cambiare Allora Dovrebbe esserci quindi un altro team Secondo le tue previsioni Giusto? Dovrebbe Ma non sono sicurissima, Stef Non li ho contati Quindi comunque Teniamo le occhi aperte Beh, però sei visto Più di due persone Sì, mi è sembrato Di vederne tanto E allora Stef, allora Dopo che ho giocato 45 partite Sto iniziando a confonderle Nella mia mente Di fronte è nel tetto La casa è di fronte a te, Stef Vabbiamo ragione Mico Quelli a lato, no? Era Ok Scusa, ma oggi sono cattiva Ma ce li ha? Forse sì Vero? Sì Ce li ha Ce li ha Questo è il nostro game staff No, non lo dire Sì che lo dico Sì che lo dico Ok Mi controlli sei missili? Eh, sì Dovrei averlo Il tipo sai che in casa, vero? Sì, tieni Grazie E che ci devo fare? Sì, lo so che in casa, vero? Amico? Amico? Magari ne hai altri tre anche tu Siete il team dei bouncer E noi finiamo No, amico No, amico? Non gli importa Niente? Ti nascondi? Ti hai nascosto Non sento più neanche camminare Quindi chissà dove sei cacciato Vero? Sì, sì, sì L'ho sentito per un attimo muoversi Quando hai tirato il razzo Poi il silenzio Esatto Occhio che starà dentro qualche stanzino Sotto scala Bagno E infatti E infatti Come previsto Ok Ci muoviamo Steph? Si nascono sempre tutti lì Devono capire che non è molto Wart Perché la gente ormai se lo aspetta No, è il primo posto che vai a controllare 3 di 6 raga È già qualcosa È già qualcosa Cioè c'è già capitato Nel 3 game ovviamente Dove eravamo a 3 di 6 Però Che poi anche fino alla fine Non abbiamo trovato il T3 Esatto Quindi non si canta vittoria Però dai È già una speranza È già una speranza Sono d'accordo Pronta? Sì, ho pochi materiali Però sì, andiamo Ok Let's go Forza, forza Ti faccio nel mentre che corriamo Allora Teoricamente Come funziona? Stai ancora provando a gestarsi A testere Sì Sei un becille Non devi rompere le cose Lo so Mi sento una persona orribile Non posso più giocare a sto gioco poi Cioè senza saldare Stef Eh? Dimmi Sei Stai correndo dritto su una fence Tranquilla Sto cercando di fare una sistemazione provvisoria Capisci? Vabbè Ok Te lo prende Te lo prende È un po' incastrato Vai raga ho risolto Ti prende il gioco Che emozioni questo game eh No che emozioni Che emozioni questa giornata in generale Ho visto un albero scomparire a lago Noi abbiamo iniziato a registrare Ma abbiamo fatto anche altri video Ovviamente Alle 12 Sì Sono le 19 raga E la nostra pose è stata un pranzo di 10 minuti Letteralmente Letteralmente Beh E vi assicuro che la maggior parte della giornata Ce l'ha presa a Fortnite Non tanto gli altri video che sono stati più semplici Per fortuna Vabbè Stef Oh mi hai messo curiosità Io voglio finire Voglio farlo Vabbè sai Sono robe epiche E poi non l'ho ancora visto provare da nessuno Quindi ci tengo Poi magari mentre esce questo video Lo fa già qualcun altro Allora li bianco E sbatto la testa al muro E finisci di spaccare la tastiera E finisco di spaccare la tastiera Ma devo comprarla Anche gli altri tagli Devo davvero comprare la nuova tastiera Sì come finiamo te la ordini Ma io te l'ho detto da un sacco di mesi Butta quello schifo Una tastiera tutta rovinata C'era tipo da 5 anni Da ora regalata Io gli ho detto Buttala Comprate un'altra Lui no 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 Sai cosa mi servirebbe Visto che devi prendere la tastiera Un joystick Ah ecco Grazie Anche a me però Allora compriamo anche due joystick Se mettiamo a parlare di cose inutili Eh finché si corre Ma guarda Comunque riesco a saltare Va bene Devo tipo Più o meno devo dare Tre martellati Il mio dito si sta rompendo Allora penso che il tuo dito Deve essere un martello Però senti il rumore no Sì Uh se lo sento Ma voglia Allora hai roba di precisione Sì per fortuna Ok però io ho pochissimi colpi Anche io Ho visto un player di fronte a noi Ok È quello che ne avrà Lo vedi Me lo sento Eh quanto è lontano È giotto di 40 però Colpito Ma Chi ci spara? C'è qualcun altro che ci spara Sì Dietro 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 Davvero? Sì mi è sembrato Sto proprio dietro Oh no Non lo capisco Dov'è? Sono strani i colpi Mi arrivano sempre da una parte diversa Qui a lato Steph Qui 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 Gradi Eh 75 Vabbè calmati Io non ho così tanti in mazza amico Raga Oddio non poter saltare Occhio Ferek Parat Ok Quello ha ancora shield Te lo dico Però Però gli ho fatto un botto di hatchet Io ho sentito capito Ok Ho bevuto uno shield Dov'è ancora lì giù? Sì Eccolo Sì lo vedo Ok sta cercando di sniperare o cosa? Riesce a buttarmi il medikit? Sì Se vieni qui dietro sì Tini Ok TVB Assicurati che non venga Eh lo sto cercando di fermare Ma è fermo che prova a sniperare Ok Ha appena sparato Ma ancora shield Carica Ferre carica Maledetto Ancora shield 5 kill per me E 3 bouncer No No Che è successo? Appena mi ero curato Uno alle spalle Ferre Arriva anche questo E basta A chi stai pensando? A quello io penso all'altro Ma non lo so Ok questo l'ho colpito Quello dietro l'albero Tu devi tenere Quella vestita da Wonder Woman Accidenti Uccisa Questi sono due Lo so Cavolo cavolo Ho bisogno di tirare il mio Aveva ancora shieldini sto qua Me li tiro al volo Resisti Ferre Siamo degli eroi Mi stanno assaltando Steph Eroi per modo di dire no Altra gente Altra gente Dietro di te Steph Erano 3 team Sto nascosto Mi senti? Si Piene di gente Lo so Piene di gente Sasconditi Io sono nascosto Però hanno i bouncing Praticamente hai un team alla sinistra e alla destra Perché a me quelli che mi hanno preso sono arrivati da dietro C'è assurdo E' pieno di gente Vabbè che siamo praticamente al centro Sì al centro della mappa Al centro della zona Dove saranno? Perché non vanno via? Sanno che ci sono? Secondo me si Io non sono morta subito Quindi per forza lo stanno Ah Ok Con calma però se la prendono Eroico Eroico Te l'aspettavi così vicino? No Ok Io me lo aspettavo un po' più lontano Vabbè è andata così Allora raga Facciamo un taglio Ci sarà prima o poi una clip dove finalmente ce la facciamo Quindi basterà continuare a guardare il video raga E ci sarà finalmente la nostra riuscita Siamo delle palline rimbalzanti Te l'avevo detto che facciamo Allora raga Non si può mettere giusto nel soffitto Ma qui funziona Praticamente quelli nel pavimento Non ci fanno mai toccare terra Esatto E questi due lati Invece ci fanno fare avanti e indietro Tutto il tempo Tutto il tempo Siamo da 5 minuti così Senza sosta Cioè a me sembra anche che si stia per baggare Sinceramente No è tutto a posto Però è bellissimo Bellissimo È impossibile toccare terra raga Non si può toccare terra Come pensavo Siamo delle palline rimbalzanti Funziona davvero Funziona davvero questa roba E a questo punto Ferre come ne usciamo? Non lo so No rimaniamo qui per sempre Steph Ferre Ferre non fa neanche a modificare Aspetta Steph Aspetta Come ne esci? Aspetta li ho modificato Rompi Uh Ho rotto qualcosa e sono caduta giù Steph Pensate di aver buggato tutto Non lo so Voglio uscire Te l'hai fatto uscire? Sì Ok perfetto Forse è moglie di Zara Sei vivi nel frattempo Steph Lo so ma noi eravamo palline rimbalzanti Ti ho perso tutta la vita Ho 23 HP Ma come? Dopo 20 game E vi giuro che sono stati 12 Li ho contati letteralmente Quindi noi abbiamo cancellato una cosa Come 6 video Perché 6 volte abbiamo commentato Perché non trovavamo almeno 3 Quindi commentavamo Ce l'abbiamo finalmente fatta È stata una figata come pensavo Lo vorrei riprovare con ancora di più Magari quando abbiamo i server privati Lo proviamo con tipo 12 Una roba del genere Sarebbe epico Direi che ce l'abbiamo comunque fatta Ci fermiamo così Supportate con tanti likes Dato che raga è stata una faticaccia incredibile Iscrivetevi al canale Cliccate la campanina Se ancora non avete fatto Ci fermiamo così Ciao 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 ciao